Cari amici e cari amiche, se volete imparare a usare il digitale per comunicare bene con tante persone siete nel posto giusto, siete su Passione Podcast e siamo con Fabio Bruno. Ciao Fabio! Ciao Andrea, ciao a tutti quelli che ci vedono e ci ascoltano. Caro Fabio, super grazie per questa chiacchierata e credo, credo di aver capito in anticipo, cioè di aver capito adesso una cosa, perché tu mi hai detto poco fa che la tua città di origine è Messina, ma allora Start Me Up, il me di Me Up, è un richiamo alla tua città di origine? Esattamente, esattamente, mi hai scoperto. Mi sembrava. Tra l'altro ti dico una cosa Fabio, sottolineiamo nel caso che non si sia capito il tuo podcast Start Me Up, è un podcast che si occupa di start-up, aziende, innovazione, dico bene giusto? Principalmente innovazione, sono partito con il focus sulle start-up, poi mi sono spostato al mondo dell'innovazione culturale, sociale e tecnologica al sud Italia. Super interessante e diciamo, sveliamo questa cosa, io sono super legato alla città di Messina che per me è una delle città più belle del mondo, perché la mia famiglia è originaria di Messina e ho ancora un sacco di parenti a Messina io. Incredibile, questa è la sorpresa mia. È davvero bellissimo e la mia famiglia ha sempre abitato in zona Villa Dante, hai presente? Ok, certo, sì, 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 io sono da tutta altra parte, però certo, dai, ma che bella sorpresa. Bellissimo, quindi un grande saluto a tutti coloro che ci stanno ascoltando da Messina, che è una città adorabile, così come lo è tutta la Sicilia, che è veramente bellissima, stupenda. E allora, caro Fabio, senti, tu come sei messo in questo periodo? Come stai vivendo questa situazione? Bella domanda. In realtà ho un po' di ansia, non ti nascondo che ce l'ho, anche perché comunque dall'inizio ho sempre cercato di tenermi informato selezionando bene le fonti, perché so che uno dei rischi è quello di farsi prendere un po' dal panico, soprattutto se si fa parte di gruppi WhatsApp o posti dove circolano varie notizie o semplicemente accedendo a un qualsiasi social network. Io sto usando, io quando sono al computer guardo principalmente Facebook, quando invece non sono al computer ho Twitter e lì, insomma, mi rendo conto di come la discussione sia sempre molto, molto, molto legata a l'evolversi di questa situazione. La cosa che mi lascia più sgomento è un po' il fatto di non... innanzitutto la rapidità con cui le cose succedono e soprattutto l'imprevedibilità, che è un po' secondo me quella la vera, la chiave di tutto. Cerco comunque poi, insomma, di vivere quello che mi viene dato. Mi lavo le mani. Ottimo, tu direi bravo. Tra l'altro ho appunto scoperto questa cosa che bisogna cantare mentre si lava le mani perché non so se lo sai, so se l'hai sentito. No, questa non la so. Ma a quanto pare per lavarsi bene le mani bisogna far passare almeno 30 secondi e quindi un buon metodo è cantare una canzone piuttosto che contare. C'è chi dice di cantare tanti auguri a te almeno due volte. Credevo che intendessi che bisogna cantare una canzone perché la musica uccide i germi e stavamo entrando nelle fake news in una maniera vergognosa e invece no, ti sei salvato in corner. No, in realtà serve soltanto per non annoiarsi mentre si canta. La mia ragazza crede che io sia pazzo perché comunque mi sente cantare tanti auguri a te e questo è interessante. Guarda, se posso dare un consiglio non richiesto agli ascoltatori e alle ascoltatrici, io a proposito delle news mi sono imposto delle regole rigidissime, cioè io mi sono imposto in maniera letteralmente rigorosa di, punto primo, non aprire più i social network. Io già prima nei social network non ci stavo ma ogni tanto ci bazzicavo per curiosità tipo una volta ogni due giorni la puntatina capitava di farla, bene, esclusa anche quella ho deciso di non leggere più nessun giornale online né guardare i telegiornali, cosa che non facevo già da prima, ad eccezione del post, il post punto it che suggerisco e anche nel caso del post lo sto aprendo una sola volta al giorno, quindi non mi aggiorno più in maniera vorticosa, tanto mi sono detto se muoio me ne accorgo, non è che ho bisogno di leggerlo sul giornale. Di conseguenza lo leggo una volta la sera per essere aggiornato su quello che sta succedendo in maniera un pochino seria come fa il post e punto e basta, quindi un consiglio che io mi permetto di darvi anche per essere più efficaci in questo periodo che è comunque difficile per tutti, cercate di ridurre la corsa alle news, alla notifica, alla notizia a scoprire cosa ha detto quello, cosa ha detto quell'altro perché non c'è per nulla utile. Quello che conta adesso è essere informati in maniera seria ma anche equilibrata. D'accordissimo, tra l'altro io pure, io tra l'altro sono uno dei sostenitori del post, quindi pago e ricevo ogni sera la loro newsletter, che comunque è molto ben fatta e se questo io aggiungo insomma a un'altra newsletter, che quella invece arriva il sabato mattina, fatta da Valigia Blu. Anche quella è estremamente ben fatta, tra l'altro Valigia Blu è, secondo me, come autorevolezza siamo lì al pari del post, in più però Valigia Blu ha il fatto di non ricevere nessun tipo di finanziamento se non quello dei propri sostenitori. Quindi da questo punto di vista a mio avviso è un'ulteriore garanzia di libertà, però io comunque la penso esattamente come te, ovvero che il post in questo momento sia uno dei principali se non il miglior giornale online che abbiamo in Italia. Sta facendo un lavoro pazzesco e ti dico, in questo periodo anche di coronavirus, secondo me emerge ancora di più la qualità di quello che fa e credo anche che emerga a suo vantaggio, cioè io penso che un sacco di persone si stanno rendendo conto di quanto sia prezioso il lavoro che fa. Tra l'altro adesso mi andrò a leggere meglio anche Valigia Blu, perché colpevolmente non l'ho mai approfondito, ma in tanti me ne avete parlato molto bene. E a proposito di questa cosa qua che abbiamo detto legata all'informazione, io mi leggo a una curiosità che ho, meglio una domanda che ho da farti rispetto invece alla produzione dei nostri contenuti. Perché proprio ieri nella palestra con i patrons ci chiedevamo ma in questo periodo ha senso produrre i nostri contenuti e se sì come farlo? Perché da un lato ci si diceva, beh, di fatto le persone sono distratte, non sono interessate a sentire parlare di innovazione nel tuo caso o di come fare podcast nel mio caso e d'altra parte sembra a volte abbiamo la sensazione di essere indiscreti nel portare avanti le nostre cose normali in un periodo di emergenza come quello che stiamo vivendo. Tu come vivi queste cose? Come ti comporti col tuo podcast? Allora in realtà io sto continuando e lo faccio in maniera... dunque la settimana scorsa ero abbastanza un po' turbato e dicevo che faccio dedico una puntata, ne parlo alla mia maniera. Questa un po' era la cosa. Perché far finta di niente secondo me è impossibile. Dall'altra parte non esserci secondo me può essere ulteriormente ulteriormente peggio perché dice guarda oddio non sta succedendo posto che qualcuno magari abbia così a cuore il prodotto che uno fa e uno se lo augura sempre. E credo che sia così nel tuo caso. Esatto sì sì. Quindi alla fine ho detto proviamo a farlo, proviamo comunque a continuare a parlare anche mostrando un po' un certo tra virgolette disagio. Io la puntata che ho messo online proprio ieri sera, l'ultima, è la prima di fatto da quando è partita la quarantena a livello nazionale. Lo dico proprio esplicitamente, dico guardate ragazzi, questa è una puntata particolare perché è la prima così, quindi un po' avevo pensato addirittura di fare una sorta di piccolo audio documentario su work in progress della puntata. Poi non ci sono riuscito perché non mi piaceva quello che era venuto fuori e quindi ho cercato di mettere insieme un po' le storie di quelle startup che sono, che fanno parte un po' del giro di Star Me Up e raccontare un po' quella che è la loro esperienza, raccontando anche dei casi positivi. E quindi lì ho messo in piedi giusto due o tre storie, mentre solitamente parlo di una sola startup per puntata e quindi ho cercato di affrontarlo un po' così. Credo un po' che questa cosa venga fuori e adesso devo capire un po' se è realmente perché appunto insomma adesso sta iniziando a raccogliere i primi feedback. Guarda questo è interessante e devo dirti che se posso darti il mio parere secondo me in questo momento nel rispetto della sensibilità di tutti perché secondo me è giusto che oggi la decisione sia un po' personale, individuale di chi crea contenuti ma in questo momento come non mai è utile produrre contenuti? È utile produrre contenuti sia quelli soliti che facciamo perché io credo che il messaggio che debba passare, cioè la cosa importante è che non stiamo vivendo un periodo in cui la nostra vita si deve bloccare ma stiamo vivendo un periodo in cui la nostra vita con le enorme difficoltà che questo comporta io figurati ho tre figli che sono a casa da gestire, mia moglie sta continuando ad andare a lavoro perché lavora in una casa di riposo dove il lavoro non si ferma e tra l'altro immagina anche tu le preoccupazioni che viviamo nello stare a contatto con così tante persone fragili per cui insomma con le difficoltà che ci sono però è importante secondo me che passi il concetto che le nostre vite stanno andando avanti e proprio perché non sappiamo quando finirà sta cosa qua dobbiamo continuare a portare avanti le nostre vite perché se no rischiamo di perderci magari sei mesi della nostra vita nella preoccupazione e nel passatemi il termine un po' forte però nell'abbruttimento personale che è quello che dobbiamo evitare in questo momento. Io qui non so se posso consigliarlo però in realtà c'è un piccolo decalogo che è girato su facebook, me lo sono perso quindi consiglialo che lo vado a recuperare scritto da Renzo Ceresa che è un autore RAI e appunto è l'intrattenimento alla radio nel tempo del coronavirus naturalmente non stiamo qui a leggerlo però è un piccolo promemoria per conduttori autori e programmatori musicali però è una cosa insomma che secondo me torna utile anche perché appunto lui dice appunto il primo magari leggo solo questo qui dice non fate finta che non sia accaduto nulla ma non restate invischiati solo nel coronavirus quindi secondo me qui c'è un po' tutto il segreto siamo comunque anche noi inseriti in questo mondo e quindi insomma in quanto tali condividiamo questa questa diciamo questa emozione. Cavoli questo è super interessante Fabio aggiungo ancora al pistolotto e poi andiamo a parlare di start me up te lo prometto all'omelia che stiamo facendo caro Fabio aggiungo che secondo me è anche importante in questo momento portare delle cose positive cioè non soltanto parliamo del coronavirus mettiamo la keyword coronavirus da tutte le parti lavoriamo sulla morbosità o sulla paura delle persone ma proviamo anche a dare degli strumenti noi che ne abbiamo l'opportunità cioè abbiamo questo benedetto microfono tra le mani cavoli possiamo usarlo troppo bene in questo momento ti faccio un esempio concreto io sto facendo una serie dedicata all'insegnamento a distanza su youtube che sta avendo un successo incredibile non parlo di coronavirus sono tutti video che saranno utili anche dopo il coronavirus però nel frattempo in questo momento stanno risolvendo dei problemi e io credo che noi che comunichiamo abbiamo questo dovere se vogliamo sentirlo come tale io lo sento come tale ma non è obbligatorio ma anche questa opportunità di dire cavoli ci sono un sacco di problemi da risolvere io posso aiutare a farlo esattamente totalmente d'accordo con te e naturalmente senza appunto enfatizzare la parte negativa ma anzi far venire fuori il positivo che comunque c'è fa parte delle nostre vite fa parte anche di un periodo che non è dei migliori ma appunto insomma come come ce ne sono stati tanti altri ecco insomma quindi esatto 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 senti caro fabio non stiamo parlando da 12 minuti e non abbiamo ancora fatto del dissing quindi ti chiedo scusa se ti sei offeso per questa cosa ma adesso recupero entriamo a parlare di quello che il tuo pane e allora la domanda che voglio farti per introdurre il tuo progetto è questa tu operi nel mondo delle startup e soprattutto dell'innovazione recentemente come tu hai giustamente sottolineato poco fa ma questo mondo dell'innovazione non è un po il mondo delle supercazzo le in realtà lo è nel senso che comunque come ogni o meglio lo è ma fino a un certo punto nel senso che uno cerca sempre di quando si mostra cerca di mostrare la parte bella la parte insomma che giustamente deve mettersi in mostra è un mondo dove bisogna stare attenti naturalmente a chi a chi deve cercare a chi vuole soltanto venderti qualcosa però ti posso dire che visto che lo frequento da un po posso dire che è un mondo pieno anche di persone che si impegnano con tanto sudore si impegnano anche con tanta dedizione e tanta umiltà nel senso buono del termine per fare in modo che le cose possano andare avanti in in un modo in un altro il problema vero è che come un po nella vita nessuno ha la ricetta per farlo e quindi ognuno improvvisa o perché magari ha visto fare in un modo e lo vuole portare nel suo ambito oppure perché magari lo vuole copiare pari pari e pensa perché comunque fa il confronto fra un paese un altro ad esempio dice può funzionare anche lo stesso e allora lì insomma uno deve comunque quindi ognuno ci prova poi certo i furbi ci sono e uno frequentando questo mondo inizia a capire chi sono realmente i furbi e allora lì poi ognuno c'è la propria coscienza e deve comunque anche imparare a stare al mondo insomma del resto tutti abbiamo imparato ad uscire di casa e a non accettare le caramelle dagli sconosciuti insomma quindi ecco anche questo dopo un po di pratica c'è l'ingenuità ci sta però perseverare in questo senso allora a quel punto uno deve farsi qualche domanda ecco ma a questo punto allora aiutaci un po a capirlo perché secondo me una situazione simile a quella che puoi vivere tu la vivono molti di noi che fanno podcast e soprattutto coloro che fanno podcast magari di interviste come nel tuo caso la maggior parte dei tuoi episodi se non tutti sono legati a un'intervista o comunque interventi esterni giusto sì sì esattamente esattamente per cui come fai a capire chi è l'ospite giusto magari suppongo che alcuni vengano e si propongano a te ti dicono guarda sto facendo questa cosa qua super interessante e tu lì come fai a distinguere guarda questo è una persona interessante uno che mi piace uno che voglio portare nel mio progetto oppure questo no questo è uno che sta vendendo un po di fuffa in realtà allora lo capisco facendoci facendoci delle chiacchierate considera che la prima io di solito prima di dire sì a qualsiasi cosa quindi arriva un email arriva un email faccio un po di ricerche per capire un po da che parte siamo dove è stato pubblicato che cosa ha fatto prima che tipo è e quindi un po cerco di farmi un po un'idea di solito invece quando scelgo io le persone e perché le seguo magari sui social vedo quello che è con quello quello che condividono e cerco comunque sempre di concentrarmi su quello che mi interessa di più e mi piace se mi accorgo magari durante l'intervista che ho sbagliato comunque mi ero fatto un'idea un'idea strana a quel punto magari cerco di mettere in evidenza le cose che interessano di più a me e giocando sempre alla parte facendo sempre la parte dell'avvocato del diavolo quindi magari faccio quella domanda scomoda dicendo però appunto giustificandola con il fatto che vogliamo capire un po di più vogliamo saperne un po di più e i nostri ascoltatori vogliono saperne quindi cerco sempre di ricavare quello che voglio io e soprattutto non dico smascherare perché poi comunque alla fine non non sono non sono batman però ecco cerco di essere che diciamo che quello che viene fuori almeno per gli ascoltatori sia qualcosa di onesto e i tuoi ospiti gradiscono questo approccio questo atteggiamento sì almeno ad oggi nessuno mi ha nessuno mi ha mai insultato una buona cosa mi ha detto no basta io questa intervista non la voglio fare più e quindi no devo dire che oggettivamente insomma da questo punto di vista sempre viene viene sempre fuori un po quella che è la natura ed è il motivo per cui è nato star me up io considero che ho fondato star me up ormai cinque anni fa con l'idea di voler dare la voce un po chi allora faceva soltanto start up oggi invece porta avanti i progetti di innovazione al sud italia perché nella mia visione di allora questi questi temi venivano trattati o come casi totalmente isolati quindi guarda esiste c'è la mosca bianca e quindi con estrema sorpresa e poi non c'era una narrazione h24 su questi temi focalizzata su questa parte d'italia che veniva comunque sempre dipinta come assistenzialista un luogo che era buono soltanto d'estate e in realtà insomma io quindi è questa cosa che secondo me viene fuori quando ho intervisto le persone e chi viene ospitato se ne accorge ma prima una parentesi questa cosa qua della domanda scomoda secondo me è una cosa molto interessante è una cosa che io suggerisco di approfondire a coloro che fanno podcast perché di fatto la domanda tra virgolette scomoda che non è che qui stiamo stiamo facendo podcasting di inchiesta allora bisogna chiedere chissà che cosa anche perché se no magari il nostro ospite giustamente ci manda quel paese però la domanda scomoda rispettosa detta anche per favorire poi la spiegazione dell'ospite per cui uno dice cavoli ti chiedo questa roba qua che quella che magari pensano le persone che stanno ascoltando ti do l'opportunità di spiegare una roba secondo me è molto efficace perché è gradita dalle persone che ascoltano ed è gradita anche dai nostri ospiti che hanno effettivamente l'opportunità di non dire le solite cose ma di dire qualcosa magari un po di diverso dal solito e una curiosità che ho rispetto proprio al tuo tema e quindi al concentrarti sul sud d'italia e se ancora oggi secondo te nel 2020 nel periodo che stiamo vivendo c'è questa disparità cioè ancora oggi secondo te vale la pena di pensare all'innovazione al sud d'italia o in questo mondo digitale diciamo che l'italia sia un po uniformata secondo me adesso le cose sono un po cambiate infatti non ti nascondo che io mi mi sto un po arrovellando su questa cosa ormai da un po di tempo perché non so se vale devo spostare il mio focus nonostante in realtà ultimamente io abbia secondo me molto più focalizzato questa cosa l'abbia accentuata almeno all'esterno secondo me da una parte essendoci stata un po l'esplosione dei vari mezzi digitali naturalmente i racconti sono aumentati ci sono portali che fanno questo lavoro molto meglio di me in maniera anche non utilizzando sia utilizzando il podcast ma anche per esempio utilizzando i video o dei semplici articoli ti dico che però appunto la cosa che io noto è che molto spesso o meglio io ti dico non senza parlare degli altri parlo quello di quello che faccio io perché comunque mi sembra anche più giusto certo la cosa che noto io è che io vado dal nerd startupper che pensa soltanto a programmare al fricchettone che fa la cosa in mezzo alla natura e non ne vuole sapere del digitale bellissimo hai reso l'idea esatto esatto è una cosa che a me piace e che rispecchia molto il mio il mio essere però mi rendo anche conto che è una cosa che è molto complicata da comunicare bene online perché appunto io con una puntata magari prendo quel tipo di target e con un l'altro invece ne prendo un altro e quindi io insomma vivo questa schizofrenia ormai da tanto tempo beh ma a proposito di schizofrenia secondo me c'è un altro punto che dobbiamo toccare della tua schizofrenia possibile tale perché secondo me ci sono altri due mondi apparentemente distanti che tu vai a toccare che sono di fatto quello dell'impresa e quello del sociale cioè mi sembra però correggimi se sbaglio che tu affronti sia l'argomento del business voglio fare questa roba qua perché voglio che diventi il mio business voglio creare un'attività un'azienda eccetera eccetera ma anche tutta la parte invece stiamo facendo una cosa per migliorare la società in cui viviamo in alcuni casi le due cose sono integrate perché c'è chi fa entrambe le cose contemporaneamente in altri casi c'è uno l'altra e quindi come trovi l'equilibrio fra queste due cose e mi chiedevo se ci fosse stata anche un'evoluzione nel tuo progetto magari ripartito più con un taglio e poi ti sei girato più verso un altro oppure se invece sempre mantenuto un certo tipo di trend di equilibrio allora diciamo che questa cosa qui mi ha fregato all'inizio cioè o meglio c'è stata una cosa che mi ha fregato all'inizio perché poi non si è verificata ed è il la quando ho iniziato nel 2013 2014 si parlava sempre di questa nuova ondata startupper o quindi delle start up un po' come adesso è l'anno del podcasting che lo è da sei anni esattamente esattamente la cosa che mi aveva molto colpito era che queste cose delle start up erano poteva essere un fenomeno che avrebbe cambiato un po' le carte in tavola e quindi c'era tutto il discorso per esempio della sharing economy che appunto nel 2013 2014 era forse una delle parole più utilizzate soprattutto per descrivere dei sistemi come per esempio Uber o Airbnb e tutti la portavano così dicevano guardate che comunque il mondo sarà appunto basato sulla sharing economy e vivremo tutti in maniera un po' più semplice e c'è stato comunque anche un mio ospite che mi ha fatto che mi ha aperto gli occhi su questa cosa qua perché lui per esempio aveva iniziato il suo business online proprio in quegli anni lì intorno al 2012 arrivando anche ad altissimi livelli cioè collaborava con grosse aziende nazionali team ma non solo lui ha dovuto chiudere la sua azienda due anni fa perché non si riconosceva più nel modello che veniva fuori perché poi nel frattempo che cosa è successo? Un po' è come se il capitalismo tra virgolette abbia preso il sopravvento e quindi ha di fatto annullato tutta questa spinta innovativa e secondo me oggi il vero difetto del mondo start up che io vedo è questa corsa ad essere per forza prima o sei primo o non esisti ed è una cosa che è terribile sotto tanti punti di vista da una parte è un punto di vista secondo me di sostenibilità non è possibile questa cosa se non appunto alla creazione di monopoli come un po' stiamo vedendo nel mondo della distribuzione con Amazon ma anche della gestione delle informazioni con tutto il gruppo di Facebook e quant'altro quindi la gestione dei dati e tutto mentre se si fosse mantenuto una sorta di equilibrio fra grossi colossi che comunque si riescono a parlarsi allora sarebbe stato secondo me un po' più semplice e ci sarebbe stata un po' quella crescita che io mi auguravo un po' sperasse quando ho iniziato a starmi up c'è stata una crescita ci sono delle persone che hanno comunque fatto il loro progetto e io sì mi divido insomma vado alla caccia dei sognatori ecco diciamolo questo è bello anche il concetto che tu dici c'è sempre questa corsa ad essere primi mamma mia interessante soprattutto detto da te che poi sei comunque molto esperto del mondo dell'essere primi e dell'innovazione e a volte noi ci rompiamo la testa per arrivare prima degli altri quando forse sarebbe meglio che arrivassimo meglio degli altri e non per forza primi o comunque che facessimo bene quello che facciamo ma quindi a proposito di sociale contro impresa tu oggi hai un focus particolare fra questi due mondi oppure cerchi un po' di barcamenarti tra entrambe le cose allora da un punto di vista estremamente tecnico io ho fatto un mio schemino non so se qua posso entrare troppo sul tecnico se tu vuoi e non hai problemi sì altro che ok semplicemente io quello che ho fatto è una cosa che non svelo non svelo a tutti però come mia traccia ho diviso la programmazione in quattro podcast al mese quindi insomma appunto una settimana e io so che ogni mese devo dedicare un podcast all'innovazione tecnologica uno a quella sociale e uno a quella culturale e il quarto che succede il quarto da ormai un anno e mezzo mi sono inventato un piccolo micro format all'interno di Star Me Up che è dedicato al fallimento l'ho chiamato Fallisci Meglio e lì racconto i fallimenti degli start-up di solito del sud Italia poi anche qui in Corsa mi sono reso conto che le persone non hanno tutta questa confidenza nel parlare dei loro errori e quindi ho allargato un po' anche perché insomma non so tu da autore se tu inviti qualcuno e ci sei guarda ho sentito che hai fallito con questa azienda ti va di raccontarmelo giustamente le persone mi dicono che cosa vuoi lì ho avuto dei no ecco ora che ci penso lì ho raccolto dei no però in realtà mi sono reso conto che questo è un format che aiuta tanto e piace tanto e quando ho lanciato qualche piccolo survey le persone hanno dimostrato di voler di voler comunque cioè hanno gradito molto di più questo tipo di format rispetto magari anche alle storie positive guarda questa roba dei fallimenti secondo me è super interessante e ti dico non pensare di scampartela tieniti pronto perché qui su Passione Podcast il fallimento e l'errore è super prezioso e quindi arriveremo anche a toccare questa cosa ma a proposito della longevità del tuo podcast tu accennavi prima che il tuo podcast è nato nel 2014 dico bene? allora dunque prima puntata di Star Mi App è stata a maggio 2013 però non era in questa veste perché era su una radio locale di Messina lo facevo con un altro socio diciamo che il mio sbarco online arriva un anno dopo più o meno insomma a settembre 2014 o forse a settembre proprio del 2003 nel 2014 sì ecco quindi comunque parliamo di 5-6 anni di podcasting e come fai a non romperti le scatole? non ti sei annoiato di parlare al microfono? allora in realtà in realtà da una parte no da una parte sì ma più che altro secondo me più che del podcasting forse se mi sono annoiato mi sono annoiato di fare sempre la stessa cosa e su questo sono abbastanza tranquillo perché per esempio già Star Mi App ha cambiato forma tante volte ero partito con era partito come era una trasmissione a due con degli ospiti su una radio locale una volta a settimana poi è diventata una trasmissione condotta soltanto da me con tre ospiti a settimana e io lì veramente se penso al lavoro che facevo tre ospiti a settimana per due anni non me ne rendevo conto ma diciamo che comunque era un lavorone tra l'altro facevo di tutto per rimanere nei dieci nei dodici minuti perché allora io poi davo il file anche ad alcune radio locali ok quindi avevi un palinsesto io in dodici minuti credo che morirei cioè fai conto che noi in dodici minuti ci siamo giusto salutati in questa puntata esatto 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 sì poi alla fine insomma un po' vedendo un po' quello che succedeva vedendo un po' un po' varie esigenze ho deciso di cambiare quindi dopo un paio d'anni ho deciso di passare da tre a un solo ospite e lì io mi ricordo sembra una banalità adesso ma io mi ricordo mi ricordo proprio le notti non in sonni ma dicevo oddio ma riesco a farlo sarò in grado come faccio a mutare in realtà ad oggi mi sembra una cosa estremamente semplice e oggi non ti nascondo che in realtà quello che mi piacerebbe fare è cambiare ulteriormente il format in una forma un po' più che va verso un po' l'audio documentario ancora non ho avuto non ho avuto possibilità di poterlo fare però anche lì insomma sono un po' combattuto dal fatto di ho costruito una mia piccola fanbase che comunque c'è e che apprezza quello che faccio se stravolgo tutto magari me la perdo dall'altro punto però è una cosa che deve comunque piacere anche a me e allora non lo so insomma in queste settimane sto comunque molto ragionando su magari far partire due cose parallele e poi scegliere fra le due insomma però ancora questa cosa è realmente un work in progress comunque poi questa cosa qua del format che tu utilizzi l'affrontiamo fra un po' perché mi interessa come tu costruisci la tua intervista tu utilizzi un'intervista diciamo un po' montata che un po' ricorda già secondo me il mondo degli audio documentari nel senso che non è se non sbaglio un'intervista come stiamo facendo io e te e poi mettiamo tutto ma tieni la voce poi tu aggiungi delle parti successive eccetera eccetera no? anche qui diciamo lavorato considera che io la prima nella primo format addirittura siccome non ero non ero riuscito a mettere insieme un mio set facevo l'intervista e poi facevo le voci da tutt'altra parte quindi insomma questa era una cosa addirittura raddoppiavo il lavoro e ci perdevo ancora più tempo in realtà sto iniziando ad usare appunto questo tipo di interazione però sì aggiusto sempre qualcosina anche perché non mi piace avere troppi tentennamenti e soprattutto insomma cerco sempre di togliere un po' i tempi morti o comunque anche a volte mi piace tenere mi piace comunque intervenire un po' su quello che dicono i miei ospiti non che voglia fare il censore ma secondo cioè so quello che voglio ottenere quando intervisto una persona e quindi agisco anche su quello sulle risposte tutto qui quindi di fatto tu fai un po' di editing abbastanza cioè è rilevante non è che stravolgi il senso di quello che è stato detto però comunque intervieni sulla puntata in maniera importante sì in realtà diciamolo poi pare che veramente prendi le parole gli fai dire tutt'altro togli le negazioni le fai diventare affermazioni no 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 assolutamente se mi permetto di tagliare quelle informazioni che a mio avviso sono in più e quindi potrebbero annoiare l'ascoltatore e soprattutto quindi che ne so i vari gli enormi cappelli introduttivi che vengono fatti o comunque anche quando ci si dilunga in particolari o ci sono anche magari giudizi un po' troppo forti a mio avviso che non c'entrano con il tono della puntata e poi naturalmente è tutto naturalmente però votato all'ascolto al fatto che quell'intervista possa essere ascoltata da una persona appunto attraverso il proprio smartphone o quello che è in maniera abbastanza fluida e in più soprattutto io aggiungo i vari i vari audio e quindi scusami i sottofondi quindi la musichetta insomma qui e lì che aiutano comunque anche lì l'ascoltatore a tenersi bello sveglio e attento e fai tutto tu comunque sì e devo dire che il risultato è molto buono cioè li costruisci veramente molto bene e apriamo tra l'altro la parentesi ma senza approfondirla degli enormi cappelli introduttivi perché io alla fine ho preso una decisione confermami cosa ti ho detto prima di iniziare la puntata qui saltiamo le presentazioni su Passione Podcast perché gli esseri umani hanno questo bias cognitivo di pensare che gli altri interessi l'intera biografia di ognuno di noi ma anche io quando mi intervistano mi dicono cosa fai nella vita io più o meno ci metto un quarto d'ora venti minuti a raccontarlo ma poi di fatto alla gente non interessa alla gente interessa che cosa abbiamo da dire e quindi insomma un piccolo spunto forse che posso dare a chi ci sta ascoltando e cercate di tagliare il più possibile questa parte magari in accordo con il vostro interlocutore quindi spiegandoglielo non dicendogli guarda che non me ne frega niente di quello di chi sei ma dicendogli andiamo subito al dunque e vedrai che poi il valore che tu hai da portare emergerà nel corso della puntata e pensa io quando mi rivolgo a persone che devono venderti qualcosa ma è importante questo oddio lì c'è da uscire pazzi ma in questo senso in realtà allora non so se posso faccio sempre questi consiglio queste cose da vecchio nostalgico da anziano podcast il testo di Gadda che è appunto sulla scrittura radiofonica che secondo me è estremamente attuale ed è comunque e aiuta molto a capire alcune dinamiche che vengono messe in atto quando chi ci ascolta lo fa o meglio chi ci ascolta ci ascolta e basta quindi non ha un contatto visivo davanti a noi quindi secondo me lì si trovano tutta una serie di cose e una di queste è proprio quella di andare subito al punto senza essere banali ma ecco evitiamo un po' quelli che sono i cappelli introduttivi inutili magari appunto rispondiamo prima alla domanda e poi magari mettiamoci dentro tutto il resto insomma però ecco che il cuore sia all'inizio paradossalmente però insomma la radio è fatta così questo è super altro consiglio super e se posso anche riassumere Fabio un po' il senso di quello che tu ci dicevi prima quando ti chiedevo ma come fai a non annoiarti a fare sempre podcasting dopo tanto tempo bene io credo che quello che tu ci insegni è che il segreto della longevità è nel cambiamento cioè io penso che molte volte i progetti di podcast di comunicazione digitale si interrompano anche perché naturalmente ci ci stufiamo di fare sempre la stessa cosa perché siamo esseri umani e gli esseri umani non sono progettati per fare sempre la stessa identica cosa ma siamo fatti per cercare creatività in ciò che facciamo siamo curiosi per cercare nuovi stimoli e tante volte abbiamo paura di cambiare o non abbiamo la forza l'energia e invece cambiare qualcosa del nostro progetto ci aiuta a portarlo avanti a lungo termine e secondo me tu che vivi comunque anche una situazione di equilibrio difficile perché il tuo mondo cioè quello dove tu comunichi è in continuo cambiamento e quindi tu da un lato devi portarlo avanti per te dall'altro lo devi inseguire perché quello che vale oggi non vale più domani la sharing economy oggi non è più una keyword l'auto che si guida da sola probabilmente non ne parleremo più così tanto fra due anni o magari ne parleremo ancora di più l'intelligenza possiamo dire tutto insomma quindi il segreto forse della tua longevità credo che sia proprio la tua capacità di cambiare nel tempo di stravolgerti sì anche inventarsi che poi in realtà anche inventarsi dei modi nuovi non lo so io appunto avevo in mente un format come fallisci meglio ho detto beh proviamo inseriamolo mettiamolo dentro è anche un modo per un po' provare a cambiare la narrazione che uno fa all'interno io in questo momento sono magari appunto che ne so potrei iniziare a inserire degli audio documentari o comunque dei piccoli speciali radiofonici una volta al mese e questo in realtà forse anche cioè alla fine io credo che la bellezza di un progetto proprio ci dia anche la possibilità di poter sperimentare quello che ci piace io mi ricordo quando ho iniziato questo progetto perché tornato a Messina dopo un po' di tempo in giro per l'Italia e il mondo mi sono detto inizio a vedere un po' quello che c'è da fare e ho iniziato a lavorare per alcune persone però facevo delle cose che non mi piacevano e venivo pagato poco e alla fine ho detto se devo guadagnare poco o niente a questo punto mi coltivo un progetto mio lo faccio io e se guadagno qualcosa almeno insomma e comunque ho fatto qualcosa che mi piaceva quindi è così secondo me soprattutto per chi vuole iniziare un proprio progetto secondo me il divertimento o comunque il proprio interesse deve essere al primo posto verissimo e io credo anche a proposito di fallimento che noi secondo me abbiamo un grosso problema con la parola fallimento cioè le cose sono due o in realtà noi usiamo la parola fallimento a sproposito perché chiamiamo fallimento cose che non sono fallimenti oppure dobbiamo smettere di avere paura del concetto di fallimento perché se io ho un podcast e voglio provare un nuovo format e quel format non funziona quello non è un fallimento quello è un esperimento quello è un tentativo quello è una prova che ho fatto quello è una una forma di creatività non è che tutto quello che facciamo debba funzionare e quindi lasciamoci anche lo spazio di provare a fare le cose e chiamiamoli con il loro nome molte volte il nome non è fallimento esattamente sì sì tra l'altro io almeno da quello che sono riuscito a quello di cui ho fatto esperienza a proposito della parola fallimento è proprio il fatto che tanti pensano al fallimento aziendale quindi insomma quello è quello giuridico che effettivamente è un problema insomma se ti capita certo o comunque se ci finisci dentro quindi secondo me è anche un po' questo però devo dire che anche qui sto vedendo che tante persone ne stanno parlando c'è un format straordinario in giro per il mondo che si chiama Fuck Up Nights che mette in evidenza proprio il fallimento delle persone quindi insomma qui consiglio alle persone di Milano Torino Roma che sono le tre città che hanno un Fuck Up Nights quindi diciamo community che portano avanti questo tipo di eventi quando si ritornerà a fare eventi consiglio diciamo di frequentare questi luoghi perché comunque insomma sono esperienze molto molto belle se non potete se non potete diciamo frequentarli ascoltatevi una puntata di Fallisci Meglio di Staruny Up che è comunque l'ultimo tra l'altro l'ultimo l'ultimo ospite viene proprio da una Fuck Up Night quindi insomma è perfetto e come le individuiamo queste puntate gli dai un titolo particolare? in realtà con l'hashtag Fallisci Meglio ok lo troviamo già nel titolo sì o comunque nel tag quindi comunque basta cercare Fallisci Meglio insomma io cerco sempre di mettercelo da qualche parte insomma se non nel titolo comunque fra i tag o fra le varie geolocalizzazioni insomma da qualche parte nel testo lo trovate insomma quindi sì si trova e senti visto che siamo nell'ambito dei cambiamenti e visto che tu sei un podcaster molto anziano io mi chiedo come è cambiato in questi anni dal 2013 che è preistoria in termini digitali ad oggi il mondo del podcasting che cosa hai notato? se penso al 2013 secondo me tu chissà che cosa utilizzavi magari ti dovevi creare il feed RSS per conto tuo poi dovevi spiegare alla gente come se lo andava a trovare insomma immagino che fosse un mondo totalmente diverso più o meno molti di noi che hanno iniziato presto ad ascoltare i podcast si ricordano quel periodo come proprio il periodo in cui scoprivamo dell'esistenza dei podcast fino ad oggi dove invece le prime piattaforme penso a Spotify fanno capolino iniziano a dire aspetta 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 che questa torta me la voglio prendere tutta io perché qui c'è della roba interessante e che evoluzione hai visto tu in questo mondo? ma in realtà devo dirti che vabbè diciamo se mi chiedi così a bruciapelo ti dico adesso è molto più affollato c'è un sacco di gente e questo credo che si evite anche perché è l'anno del podcasting esattamente esattamente anche quest'anno è l'anno del podcasting anche quest'anno è l'anno del podcasting no in realtà in realtà allora la cosa che ho notato dunque c'è stato un cambiamento mentale in me perché allora io prima di fare tutte queste cose qui ho lavorato nella web radio alla web radio di Torino a 110 web radio radio universitaria tra l'altro se ci sono degli studenti all'ascolto io quello che consiglio sempre se andate all'università e lì c'è una web radio universitaria andateci e se no createla sì sì esatto comunque però entrate proprio anche nel circuito raduni insomma è tutto un mondo che a me ha aperto tante cose mi è molto piaciuta e secondo me è una vera forza che non è ben considerata insomma purtroppo ha fatto notizia o meglio ha fatto notizia purtroppo per una triste notizia in fondo Antonio Megalizzi che è questo ragazzo che è stato ucciso si è trovato in mezzo a questa sparatoria dell'attentato a Strasburgo e questo ha dato un po' più di notorietà alle web radio universitarie che però in realtà esistono ce ne sono tante nei vari atenei io ho iniziato lì e facevo quelle lavoravo principalmente lì quindi di fatto per me il web attaccato alla radio c'è sempre stato c'è stato un periodo nella mia vita in cui dicevo no o lavoro in una radio FM oppure non faccio niente poi però appunto tornando al soddetto periodo di prima sono tornato sono tornato in Sicilia e lì quando uno dice poi i casi della vita mi sono ritrovato a render parte a un festival musicale dove abbiamo fatto un piccolo panel sulle web radio ed era il periodo in cui storicamente c'era come caso di successo Bertallò Alessio Bertallò che aveva sfruttato Music Racer quindi con una sua era stato buttato fuori da credo Radio DJ o Radio 2 ma proprio a calci in cura a malo modo a quanto pare e lui allora a quel punto ha creato Casa Bertallò che ha messo in piedi grazie a Music Racer quindi crowdfunding e poi a Spreaker che in quel periodo iniziamo a muovere i primi passi e io tra l'altro appunto lì ho avuto modo di conoscere Tonia Maffeo adesso credo sia country manager per la o comunque vive in Portogallo insomma non fa più quello che faceva prima ma meno male insomma anche perché appunto se lo merita tutto e lì grazie insomma grazie anche a questa questa amicizia nata appunto a causa del podcasting io ho iniziato a utilizzare subito Spreaker e da lì insomma è venuto fuori è venuto fuori che tante persone lì è stato per la prima volta io ho iniziato a rendermi conto che esisteva qualcun altro che faceva che faceva queste cose ho conosciuto Giulio Gaudiano per esempio insomma ciao Giulio e quindi ciao lo salutiamo però anche tanti altri e questa cosa insomma e quindi io poi da lì ho iniziato a muovermi la cosa che vedo è che è che questa cosa un po' mi ha un po' stranito io per esempio prima del festival del podcasting che organizzate per cui appunto anche tu a Milano ero stato a un altro festival del podcasting fatto da Radio Speaker se non sbaglio a Roma e lì insomma io mi ricordo appunto che c'era ancora Speaker ancora all'inizio però ecco io lì avevo visto che mi sentivo un po' parte di un altro mondo perché lì venivano erano organizzati dai ragazzi di Radio Globo c'erano altre esperienze io naturalmente qui non voglio giudicare bene o male certo semplicemente notavo una certa distanza e lì mi sono reso conto che però lì ancora si parlava di web radio poi invece poi è venuto fuori e il podcast veniva sempre considerato come la registrazione in realtà poi sono ormai tre o quattro anni da quando si inizia a parlare che il prossimo anno sarà l'anno del podcasting che comunque insomma c'è una nuova definizione del podcast che secondo me ancora deve essere ben definita senza dubbio ma io aggiungo anche da un po' che non faccio polemica su questo aspetto qui a Passione Podcast quindi grazie per avermelo ricordato aggiungo anche che metterci qui a definire che cos'è il podcast sia una roba che non ha senso di norma ma non ha senso a maggior ragione in questo periodo perché podcast può essere qualsiasi cosa il video l'audio la radio la web radio il podcast che nasce come podcast il messaggio vocale su whatsapp dove definiamo il confine tra ciò che è podcast e ciò che non lo è a mio parere non si può se per te si può però diccelo e vediamo il tuo punto di vista se possiamo besticciare facciamolo infatti no 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 per carità per carità insomma io sono uno di quelli a cui all'ultimo festival del podcast a Milano mi è stato detto Fabio bravissimo mi piace un sacco starmi up certo un po' troppo radiofonico ecco questa è una roba che a me dicono quotidianamente ecco scusa aspetto un attimo però in realtà però in realtà insomma no su questa cosa della della definizione di podcasting io ci sto studiando su questa cosa qua perché io pure da una parte penso va bene è il mezzo che lo definisce sì però in realtà cioè mi sono reso conto che comunque forse c'è un discorso un po' più ampio da fare e in questo senso sto leggendo questo libro tra l'altro ce l'ho qui ma perché proprio lo sto leggendo in questo momento ok podcasting di audio media revolution sì di Martin Spinelli e Lance Dunn che sostanzialmente sta definisce sta definendo per bene quelle che sono le caratteristiche del podcast rispetto alla radio tradizionale e quali sono? diciamo non l'ho ancora finito non è ancora finito quindi dovremmo fare un aggiornamento esatto non l'ho ancora finito però insomma dalle prime parti per esempio cioè il fatto che si è sempre utilizzato il concetto di intimità per la radio perché sai che comunque la radio rispetto alla televisione è un mezzo caldo perché implica l'inclusione della voce e in realtà il podcast lo è ancora di più ma perché la fruizione di questo tipo di mezzo viene fatta quasi sempre con delle cuffie e quindi è estremamente personale quindi c'è questo un po' cioè questa cosa sembra una banalità però in realtà è come se io e te ci incontriamo ci incontriamo che ne so così mediato da un mezzo però magari la nostra interazione non è la stessa se ci incontrassimo in un bar e magari non sarebbe la stessa se ci incontrassimo a casa tua o a casa mia dove sostanzialmente l'ambiente crea forme di intimità diversa questo credo che sia uno degli aspetti poi c'è appunto questa questa voglia di entrare in questa profonda relazione con innanzitutto con una roba costruita addirittura in questa parte qua ma ancora ci devo arrivare poi però lo leggevo nell'introduzione dicevo appunto che le discussioni vanno bene però in realtà c'è qualcosa di più un esempio del genere o comunque un esempio fra tutti è il Radiolab di MICO che è questo format stupendo che io tra l'altro quando stavo in Australia ascoltavo sempre fatto da queste due da queste due persone è un prodotto di NPR NPRX pure sono due produttori americani sono praticamente delle interviste dove però le persone dove però i produttori ci inseriscono anche degli effetti audio e quindi insomma tu allargano ulteriormente il discorso e la nostra intervista in forme sensorialmente più interessanti e più coinvolgenti perché poi comunque sta tutto lì nella chiave l'engagement che hai con il tuo ascoltatore queste sono due differenze che la radio tradizionale per esempio non ha però appunto poi mi rendo conto che comunque magari poi è tutto molto opinabile in realtà in Italia adesso stanno iniziando a venire fuori cose del genere uno fra tutti è Jonathan Zenti insomma che fa queste cose abbastanza particolari un'altra amica che è meno famosa ma io insomma è un'amica mia allora sponsorizziamola sei una tua amica certo sì Cristina Marras che fa cose molto 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 carine le fa sia in inglese che in italiano e lei pure insomma lei lei proprio litiga con le persone su Facebook su questa cosa del podcasting io non arrivo a questo a questo livello però lei proprio ci litiga su queste cose qui però e condivido e capisco anche il suo punto di vista e poi insomma un riferimento per questo mondo qui in Italia è sicuramente dato da Radio Papesse che è questo network non lo conosco è un network toscano sono due in realtà sono due ragazze molto brave e loro lavorano molto sulla 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 sound art sulla radio art e naturalmente adesso lavorano anche molto sul sul podcasting loro hanno organizzato Lucia che è un festival del podcasting a dicembre è stato fatto a Firenze dove ho comprato questo libro e lì lì c'è stata la possibilità di poter sentire alcune opere statunitense o comunque americane e da altre parti del mondo e la cosa bella è che venivano ascoltate con lo schermo davanti quindi insomma non c'era il problema della lingua ed era una cosa è stata una cosa molto molto bella anche qui segnatevelo quando si potrà riandare a fare in giro e vedete un evento creato da Radio Papesse andateci perché comunque ne vale davvero la pena guarda lo vado ad approfondire di sicuro e a questo a proposito di quello che tu dici io l'unica perplessità che ho è sul concetto proprio di definizione cioè io riesco a capire e approvo quando uno mi dice guarda per me il podcast è questa roba qua e allora io dico va bene cioè a te piace quella cosa lì come a me ne piacciono delle altre per esempio io faccio un po' fatica ad ascoltare i podcast molto costruiti molto strutturati preferisco quelli dialogati ma non dico quello è il podcast o così deve essere il podcast dico a me piace quel genere di podcast e se si inizia a dire il podcast deve essere quello piuttosto che deve essere quell'altro secondo me si tenta poi tanto non si riesce per cui tutti coloro che oggi dicono il podcast deve essere così o cosa sono destinati a mio modesto parere ovviamente ad andare incontro a una delusione perché non riusciranno in globale una cosa in una definizione piuttosto che nell'altra però il rischio è quello di tentare poi di limitare la creatività io mi dico se a me piace ascoltare uno che per 20 minuti fa dei rutti nel microfono e per me quello è un podcast che male c'è che problema c'è se lui vuole fare quella roba lì e io me la voglio ascoltare non lo so forse il problema capisco questo punto di vista insomma ed è naturalmente ed è naturalmente condivisibile io credo che il punto sia come dire che tu pubblichi un libro e lo pubblichi seppur con il self publishing lo pubblichi quindi con copertina tutte le cose le immagini e io che invece prendo quattro fogli ci metto due spilli e dico questo è il libro non lo so qua non voglio fare sempre quello là noioso che cita le cose che ha studiato ormai cita cita dai che stai citando cita no dico perché appunto se aveva ragione McLuhan quando diceva che il medium è il messaggio quindi che il mezzo è il messaggio allora a quel punto il podcast può essere fatto come con l'audio di un video però è qualcosa naturalmente di diverso rispetto a un podcast podcast che invece magari è costruito ci sono dei suoni dentro io infatti tra l'altro appunto prima di tutta questa cioè io per esempio in questo momento mi sto scervellando sul fatto che nell'accezione che viene utilizzata anche nel libro di podcast c'è principalmente una o quella che per esempio sostiene Cristina è quella che ci deve essere per forza un racconto personale io non voglio raccontare non voglio raccontare quello che mi passa per la testa non sono timido non c'ho voglia però mi piacerebbe sfruttare la potenza di un mezzo simile quindi quindi per fare una cosa dello stesso genere però per esempio sulle interviste in questo senso per me Radio Lab è veramente una cosa pazzesca perché in parte riesce a fare quello che immagino senti ma dal punto di vista della tua vita a proposito come il podcast si è integrato nella tua vita di tutti i giorni e anche in quella professionale mi chiedo se ti ha dato delle opportunità lavorative se ci sono state delle cose particolari da segnalare ho capito anche che tu hai creato un'associazione della quale magari ti chiedo di darci qualche informazione in più allora sì in realtà io considero che al primo festival del podcasting quello fatto online ok non si capisce più niente su qual è il primo festival del podcasting comunque il primo festival del podcasting fatto da Giulio Gaudiano online fatto online dove lui ancora credo vivesse ad Australia in Australia sì esatto io allora io diciamo la cosa che veniva fuori era che io avevo trovato lavoro grazie al podcast perché in realtà questa cosa questo progetto che io avevo iniziato grazie anche al supporto di alcuni amici da un punto di vista da un punto di vista di programmazione e web perché io comunque ne capisco davvero poco avevo messo in piedi questa cosa però io appunto mi curavo tutta la parte autoriale tutta la parte dei suoni un po' come faccio adesso però questa cosa mi ha permesso di essere inserito all'interno di un'azienda che è stata quella che poi è stata il principale sponsor di Starmiapa fino allo scorso anno e che quindi diciamo da questo punto di vista mi ha permesso di aprire innanzitutto avere un lavoro avere un lavoro e stare comunque a casa guadagnando dei soldi insomma facendo un po' quello che mi piaceva e poi in realtà tutte le varie porte in realtà io grazie al podcast mi sono aperto tutta una serie di ho instaurato rapporti ho instaurato rapporti che in alcune volte si sono tradotti in collaborazioni vere e proprie perché mi viene riconosciuto anche una certa padronanza nel gestire gli ospiti o le persone o anche per esempio mi è capitato di essere invitato a coordinare degli incontri quindi quindi sì secondo me insomma anche qui in fase di startup secondo me il podcasting è qualcosa che ti permette di non lo so adesso se può essere cioè può avere lo stesso effetto che ho avuto su di me anche perché secondo me le cose sono cambiate tanto una volta cioè quando ho iniziato io a Malapena c'era Facebook e Twitter adesso insomma io TikTok lo guardo molto da lontano e non so ci vai con i piedi di piombo sì sì anche perché oggi ovviamente ho provato ho fatto lo sai proprio l'anziano che guarda senza fare non ho neanche l'account ma sono andato sul sito per vedere un po' e vedo è pure intrattenimento mi rendo cioè se in Facebook io ci trovavo una parte tra virgolette sociale potevo vedere le persone potevo contattare le persone su TikTok quello che ci vedo io con i miei occhi è pure intrattenimento e questa cosa la capisco ma non capisco l'impazzirci quindi insomma questa certo condivido ci sta un'intervista piena di anzianità io volevo usare il termine longevità che mi sembrava un pochino più generoso però sì anche anzianità potrebbe essere adatto ma a proposito di anzianità ho detto a proposito credo ogni domanda che ti ho fatto in questa puntata ma non lo so mi è venuto così cosa vuoi che ti dica quindi a proposito di a proposito tu come vedi nel podcasting l'arrivo dei big delle piattaforme di Spotify perché io sono super indeciso su questo non riesco ad avere un parere proprio perché da un lato mi dico figata c'è qualcuno come fa YouTube e YouTube devo dire che lo sta facendo bene non si può negare questa cosa che ci dà a disposizione un megafono e che cura la qualità poi di quel megafono quindi bellissimo d'altra parte mi dico cavoli un mondo che è nato per essere totalmente indipendente rischia di smettere di essere indipendente e tu come ti poni tra questi estremi ma in realtà benvenga benvengani big se non uccidono tutto quello che c'è tutto quello diciamo tutto l'underground tutto il sottosuolo non lo so io una volta mi lamentavo con un amico più grande di me che in tv non facessero più programmi sperimentali cioè con cose diverse rispetto al solito e lui giustamente mi ha detto Fabio semplicemente negli anni 90 negli anni 80-90 il mezzo per sperimentare era la tv io da qua appunto da questo punto di vista sono un grande appassionato di tv locali perché io credo che comunque insomma tanta creatività sia passata dalle tv locali eppur non avendola mai fatta ahimè però ecco quindi quello che poteva essere gli anni appunto negli anni 80-90 la tv locale quindi una tv piccola che riusciva e aveva il coraggio di dire fate un po' quello che vi pare perché noi comunque ormai abbiamo questa strumentazione e quello è diventato poi internet quindi io ti dico secondo me benvengano questi gruppi se affin cioè sperando che non uccidano la creatività poi magari appunto magari noi siamo stati fortunati abbiamo vissuto l'epoca d'oro del podcasting perché comunque insomma era è stato fatto tutto in realtà non è vero e la creatività si sposterà appunto con mezzi su mezzi come tiktok che però appunto io personalmente non capisco e in questo momento non ho proprio voglia di capirlo quindi insomma c'è anche questo questo fatto però sì secondo me non sono non sono un nostalgico di natura per quanto anziano ma non nostalgico da questo punto di vista e poi comunque sono uno che vede sempre diciamo il buono e quindi secondo me ci sarà sempre qualcuno disposto a perderci del tempo su mezzi del genere e a cervellarsi su nuovi modi per esprimersi e alla fine caro Fabio prima di andare a guardare i cantieri che è una cosa di cui inizio a sentire l'urgenza perché già qualche ora che non lo faccio e prima ancora di chiederti non lo vuoi fare per ora niente hai ragione anche su questo però credo che ci siano dei buoni cantieri anche su youtube per cui andrò a verificare che magari qualcuno che lavora non so se succede anche a te però a me succede veramente di guardare sai che ci sono tutti questi canali di quelli che lavorano che costruiscono le case le capanne sono delle robe a chiappa click vergognose e io ogni tanto ci casco dentro in questi canali di fai da te che ti fanno vedere che da una roccia ti costruiscono il pugnale una cosa veramente orribile e che fa capire quanto sono effettivamente anziano dentro e prima comunque di espletare la nostra anzianità e anche prima di chiederti quali sono stati i tuoi errori e fallimenti nel tuo percorso da podcaster fammi ricordare un pochino quali sono i nostri recapiti per le persone che ci vogliono venire a trovare nel mio caso trovate tutto su officine.me dove ci sono gli altri podcast per esempio quelli in cui non ci sono io cioè quelli belli tipo god monday fake thunderner d'italia sono tutte cose interessanti andateli ad ascoltare perché sono molto belli trovate il canale telegram chiocciolina ciraulo e trovate il patreon per fare effettivamente concretamente l'upgrade al vostro progetto c'è una vera e propria scuola di comunicazione digitale una palestra dove ci scambiamo punti di vista pareri opinioni consigli un sacco di contenuti per far crescere il vostro progetto e cosa non indifferente anche per finanziare questo di progetto che rimane un progetto libero sul quale non avete mai sentito una singola volta della pubblicità né niente di tutto questo perché non credo che sia quello il modo di entrare in relazione con voi per quanto sia un modo rispettabile chiariamolo in particolare voglio ringraziare gli ultimi arrivati estermemeo della gabbia che è un podcast molto bello se vi piacciono i podcast col sound design quello sì che è un podcast da ascoltare un podcast su nuovi inizi molto intimo molto personale a proposito di quello che dicevi tu Fabio vi ringrazio anche Marco Caponera invece del podcast Body Mind Training un podcast sul fitness ma basato sulle evidenze scientifiche e ringrazio anche Maurizio Palese di Other Book che è un progetto un progetto digitale un servizio per targhette funebri lo trovate su otherbook.it se non sbaglio quindi grazie anche a te caro Maurizio per quanto riguarda te Fabio invece danci un po' i tuoi recapiti so che anche tu sei attivo su Patreon dove troviamo tutte le cose per conoscerti e per sostenerti allora l'indirizzo è quello radiostarmyup.it radiostarmyup.it e poi da lì insomma ci sono ci sono tutta una serie di vari link c'è la pagina la pagina Facebook siamo su Instagram c'è il profilo Patreon che è Fabruno con due B in realtà ultimamente a proposito di cose che sto iniziando a fare è quella di aver messo io già tempo fa avevo messo in piedi un piccolo gruppetto Facebook di ascoltatori questo gratuito prima prima che ancora che nascesse il Patreon in realtà era un mio piccolo esperimento che ho fatto perché questo volevo vedere se le persone facevano delle cose se gliele dicevo io e qui ho detto qual è una cosa iscrivetevi a un gruppo a un gruppo e ci sono iscritti devo dire quindi hanno eseguito il compito esatto quindi io ho raggiunto il mio scopo call to action check esatto esatto in realtà questa cosa questo gruppo ha un po' vissuto poi il problema dell'ok io ho questo gruppo che faccio che ci faccio che è un problema interessante e ad oggi in realtà ho risolto questo problema utilizzandolo sia sempre come canale insomma di canale di contatto insomma se qualcuno vuole parlare vuole lanciare qualche qualche discussione è liberissimo di farlo proporre degli argomenti io sono andato anche a pescare degli ospiti da questo gruppo in realtà una cosa che un uso che ne sto facendo adesso è quello di condividere un link al giorno lunedì venerdì un link al giorno relativo a dei lavori riguardo al mondo start up quindi che ne so so di aziende che vogliono assumere qualcuno lo posto lì dentro e poi è la cosa che mi piace di più il pomeriggio intorno alle 6 e mezza metto sempre un link per immaginare qualcosa in realtà l'idea è un po' quella di fornire uno spunto per crescere ma non è per forza qualcosa di educativo ma è semplicemente siccome io credo di avere un talento quello di perdere un sacco di tempo su internet nelle cose più strane e quindi a quel punto ho detto perché non mettere a sistema questa mia dote del resto sia un talento consiglio un link che può essere un testo può essere un video può essere non lo so l'ultimo che ho condiviso è proprio un piccolo documentario di questa serie great stories che esistono su youtube e sono fatte molto 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 bene quindi insomma questa è una cosa che faccio e c'è comunque il gruppo si chiama gruppo d'ascolto su facebook starmi up gruppo d'ascolto allora ti veniamo a cercare da queste parti poi mettiamo tutti i link nelle note dell'episodio naturalmente e a questo punto caro Fabio io chiuderei la nostra chiacchierata chiedendoti visto che su passione podcast crediamo che siano preziosissimi gli errori che facciamo lo sono per noi perché ci danno tante opportunità e lo sono anche per gli altri perché ci permettono di imparare delle cose gli errori altrui ci permettono di imparare delle cose e allora ti chiedo che errore hai fatto al posto nostro con il tuo start me up uno ma da una parte insomma io questa cosa della io sono un po' distratto devo essere sincera questa cosa insomma non sicuramente non mi ha aiutato quindi insomma forse ecco e a volte questa cosa non a me è capitato per esempio dirò una banalità di sbagliare i nomi delle persone soprattutto quando registravo due volte e quindi avevo sempre questa cosa di di dover controllare forse in realtà l'errore che continuo a fare e di cui ancora io non non mi sono mai abituato io non non sono bravo nell'improvvisazione quando parlo ma devo avere tutto scritto è una cosa che mi porto dietro dalla mia formazione però questa cosa qui ha bisogno di parecchie prove prima nel senso che uno può scrivere e fare in modo e far sembrare che stai leggendo qualcosa di scritto ma imparare anche a scrivere facendo in modo che le persone possano comunque capire che guarda tu non stai leggendo tu stai semplicemente parlando ora io non lo so se questa cosa si capisce o meno però in realtà io mi sono reso conto che ho un piccolo talento nel riuscire a scrivere in un determinato modo proprio per come io parlo però mi rendo anche conto che magari io un po' per la fretta un po' per la voglia mi fidi troppo della mia nella mia improvvisazione che in realtà non ho quindi non ho questa dote e quindi la cosa che faccio spesso e che me ripeto sempre ecco voglio condividere con tutti voi è quello di provare provare tante volte fin quando poi non si può non si va online e quindi comunque insomma si può si registra e allora lì i risultati si vedono insomma e io non so io ne sono la prova vivente insomma che vi posso assicurare se non vi piace quello che sentite non riuscite neanche a immaginare quello che non sentite insomma perché comunque proprio senti ma visto che avevo ragione che gli errori sono molto preziosi perché mi danno due spunti da lasciare agli ascoltatori e alle ascoltatrici per salutarli il primo è i nomi a volte le persone mi prendono in giro perché io ci sono delle situazioni in cui realizzo degli episodi con i miei amici cioè gente che io conosco magari da dieci anni e io nella mia scaletta mi scrivo il loro nome e cognome e mi scrivo anche quello che fanno e loro scherzano e dicono ma scusa ma non mi conosci ma non sai chi sono e io dico certo che lo so ma nel momento in cui io premo il tasto rec entro in uno stato mentale che potrebbe in alcuni casi portarmi a non dimenticarmi chi tu sia ma a non farmi venire la parola giusta al momento giusto e allora io me lo scrivo e la stessa cosa la faccio per ogni singolo ospite sempre anche le cose ovvie a maggior ragione perché sono ovvie e in un momento di agitazione della registrazione sono quelle che tendiamo a dimenticare più facilmente io le scrivo sempre quindi questo è lo spunto che do io e invece lo spunto che chiedo a te visto che tu mi dici che sei molto bravo a scrivere in maniera che non si capisca che sia scritto fammi capire se hai qualche trucchetto se c'è qualche cosa che tu hai capito che dici ok questa roba bisogna evitarla assolutamente questa bisogna farla assolutamente per scrivere in maniera poi da leggere ad alta voce allora innanzitutto vedere chi leggere chi usa questa stessa tecnica non lo so per me è stato illuminante Paolo Nori che è sono rimasto scemo perché allora Paolo Nori io l'ho conosciuto principalmente dalla radio poi ho letto i libri e poi sono andato a vedere un suo spettacolo dal vivo e quando sono andato a vedere lo spettacolo dal vivo io sono rimasto scemo perché lui inizia leggendo il foglio ciao buongiorno a tutti sono Paolo Nori e continuo quindi insomma anche questa parte qua mi ho detto guarda sta leggendo anche questo bellissimo e io pensavo che faceva no incredibile quindi sicuramente la lettura o l'ascolto di questo tipo di di questo tipo di fonti vi aiutano lo so io una cosa che noto su di me è che Star Me Up è sempre figlio dei miei ascolti se io ascolto determinate cose allora poi il suono lo stile di Star Me Up si adatta è come se qualcosa come i camaleonti che passano davanti alla roba colorata e prendono quel colore io mi accorgo di questa cosa qua ho questi stimoli quindi qui non lo so la rubrica consiglino richiesti se volete cambiare volete adattare il vostro stile iniziate a sentire qualcosa che assomiglia allo stile che volete raggiungere e questo insomma può essere un primo un primo bello e poi e poi leggerselo leggerselo ad alta voce quello che quello che hai scritto per vedere un po' se tu parli veramente così e poi secondo me ci va tanto anche l'ascolto perché io per esempio ora non lo so io prima ho detto quella cosa lì ma non non volevo peccare di presunzione però oggettivamente insomma se io mi ascolto penso guarda a volte ci sono delle volte in cui dico oh Dio questo si sente proprio che sto leggendo mentre in altre invece si vede che sto andando un po' più che sono che non sembra che stia leggendo in realtà invece è tutto scritto quindi insomma questa cosa comunque comunque c'è e poi in realtà il rischio in realtà di questa cosa qua dello scritto soprattutto se fate delle interviste questo insomma anche qui perché mi è capitato è quello di focalizzarsi troppo sulla prossima domanda e non ascoltare più la persona che che state intervistando verissimo e quindi questa cosa insomma capita sempre che magari che ne so chiedi nella peggiore dell'ipotesi gli chiedi una cosa che hai appena detto vero e c'è la classica risposta beh sì come ti dicevo poco fa esatto esatto e invece in realtà insomma la parte sulla parte delle domande è sempre bene sentire la risposta perché poi lì vengono fuori altre domande magari anche più interessanti e lì insomma non avete nessun problema ad apparire naturali perché sarà naturale insomma però io per esempio però le mie domande se non sono tutte scritte le principali cioè dove voglio arrivare con il discorso ce l'ho scritto poi se ne nascono delle altre ben venga però insomma quello dove voglio arrivare ce le ho sempre guarda identico modus operandi io adesso con te per esempio ho quattro domande che non ti ho fatto a fronte di sette otto che me ne ero preparate e pace però perché il discorso ci ha portato in altre strade che secondo me erano molto più interessanti rispetto a queste e quindi viva la scaletta di domande fondamentale però io dico anche fac scaletta perché se la scaletta diventa un vincolo a quel punto non è più utile la scaletta è utile se c'è di supporto ma non deve essere un vincolo la cosa più importante è il discorso e l'ospite ed è dove sta andando a parare l'ospite con il discorso che si sta facendo e anche se posso permettere di aggiungere anche dove vuoi arrivare tu con il tuo ospite cioè di che cosa vuoi parlare cioè certo se poi perché poi il rischio secondo me è di lasciarsi troppo andare che poi l'ospite ti porta su territori che tu non volevi affrontare a me è capitato sia da un punto di vista dei temi ma soprattutto anche dei toni se c'è un ospite mi sono accorto che parla molto lentamente allora anche io tendo a e invece tendo ad andare un po' più lento invece io in quanto conduttore devo mantenere il ritmo e quindi questa cosa qua occhio a farsi trascinare perché appunto un conto è andare per mare un conto è invece appunto andare alla deriva caro Fabio la prossima domanda che mi sono scritto è cosa fai tu per scrivere bene i tuoi episodi in modo che non si capisca che leggi come ti dicevo poco fa ok senti Fabio è stata davvero una super super chiacchierata davvero e poi quando è finito il libro però ci risentiamo perché questa cosa qua della definizione del podcast la dobbiamo approfondire dai con molto piacere così vi sticciamo un po' facciamo arrabbiare un po' di persone è così che ci divertiamo dai dai va bene ci sto ci sto senti super grazie super grazie a te super grazie a voi che avete ascoltato fino a qua sono contentissimo lo sapete di fare questo percorso di fare questo cammino insieme a voi vi mando proprio adesso dovevo perdere la voce vi mando un abbraccio fortissimo e vi ricordo che chi sa fare fa chi non sa fare impara a presto ciao ciao